Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro osprio su questo canale. Lo so, era da quasi un anno che non vedevate la sigla delle fondamenta del dungeon. Pensate che io l'avevo intesa come la rubrica principale del canale. Però, se l'anno scorso ho, con l'arrivo del nuovo anno, dato il via alla rubrica dell'arte del masteraggio, che sembra quella che riscuote più successo, quest'anno facciamo un passo indietro e riprendiamo a parlare delle quest dal punto di vista tecnico. L'anno scorso, nei primi video, abbiamo visto quello che viene chiamato il metodo del dungeon. Per quelli che si sono iscritti dopo e non se lo ricordano, andatevi a recuperare la playlist perché farò riferimenti a quei concetti molto spesso. Quest'anno comunque andiamo a espandere e vediamo un altro metodo collegato al metodo del dungeon che vi permette di creare un dungeon in maniera efficace ma relativamente veloce. In questa nuova stagione andiamo a parlare del metodo delle cinque stanze. Questo metodo di per sé non è nulla di nuovo. Si basa di un metodo narrativo classico usato nella scrittura dei romanzi ma anche nella realizzazione di film e l'ossatura di moltissime serie di telefilm. Per il gioco di ruolo fu formalizzata la prima volta nel 2007 dal Master John Thor, che scrive per il blog Stolen Citadel. Vi lascio poi il link al blog in descrizione per chi volesse andarsela a vedere. E nonostante fosse già usata prima, è dal 2007 che si è cominciato a trovarla molto più di frequente anche in pubblicazioni ufficiali fatte dalle varie case di produzione. Esaurita questa piccola premessa storica, andiamo a vedere in cosa consiste il metodo. Il metodo, come suggerisce il suo nome, consiste nel dividere il dungeon concettuale in cinque tipi principali di stanze. Naturalmente non parliamo di stanze vere e proprie, con stanza si intende l'ambiente in cui si svolge l'azione. Se non l'avete ancora visto andate a vedervi il video dedicato. Ci sono delle animazioni orribili, lo adorerete! Ognuna delle stanze è dedicata a un particolare tipo di incontro. Nello specifico sono l'entrata e il guardiano, dove gli avventurieri scoprono qual è la loro missione, l'enigma o l'interpretazione, dove gli avventurieri devono prevalere con l'astucia o con l'abilità, l'inganno o l'imprevisto, dove aumenta la tensione e la posta in palio, il climax e lo scontro, dove gli avventurieri affrontano il nemico, la ricompensa o la rivelazione, dove gli avventurieri vengono ricompensati per il successo. Ognuna di queste stanze è dedicata a uno scopo specifico e ha una sua funzione nell'economia della quest, nei prossimi video le vedremo una a una nei dettagli. Le stanze non devono naturalmente apparire in sequenza. Gli avventurieri potrebbero per esempio dover prima risolvere un enigma che gli indichi dove l'entrata, affrontare il loro avversario subito dopo e poi subire una complicazione che gli renda più difficile arrivare alla ricompensa. Non è nemmeno richiesto che siano sempre tutte presenti o che ce ne sia una sola per tipo. Il party una volta entrato potrebbe dover affrontare vari enigmi, ognuno dei quali li conduce ad un diverso tipo di imprevisto prima di poter prendere la loro ricompensa senza che ci sia mai stato uno scontro particolarmente impegnativo o un boss di fine dungeon. Come già detto nel video dedicato alle stanze, non è che queste debbano ridursi a degli ambienti fisici limitati. Una stanza potrebbe essere una stanza come potrebbe essere un intero blocco di quest, un'intera città, un intero pianeta. Tecnicamente ognuna di queste stanze potrebbe essere a sua volta un dungeon che deve essere superato per accedere al dungeon successivo. Anche in forma materiale, magari la chiave per superare l'enigma è entrare nell'antico dungeon è nascosta a sua volta in un altro dungeon perché hanno preferito tenere la serratura e la chiave separate per maggiore sicurezza. Allo stesso modo ognuna di queste stanze potrebbe essere una situazione di quest o un enigma o un momento in cui gli avventurieri devono prevalere con l'interpretazione che li porti poi a un'altra serie di incontri tutti all'interno di un altro dungeon da cinque stanze. Questo metodo naturalmente si focalizza sulle stanze. Sarà poi il compito del master interconnetterle tra di loro. Come si dice nel metodo del dungeon, queste sono le stanze, il master dovrà poi inserirci le porte e i corridoi che le colleghino. Questi dovranno essere sia collegamenti fisici, il master dovrà proprio decidere qual è la struttura dentro cui queste stanze e questi incontri sono sistemati, disegnare le mappe, disegnare una planimatria, ma si tratta anche di stanze e corridoi concettuali. Il master dovrà decidere quali sono i nessi logici che li collegano tra i loro e qual è la linea narrativa che permette ai giocatori di esplorare tutto il dungeon in maniera funzionale senza salti o buchi di trama. Nel metodo del dungeon le cinque stanze non devono necessariamente essere nemmeno delle vere e proprie stanze. Molte di loro sono assimilabili ad altri tipi di elemento, ad esempio la stanza dell'enigma, dell'interpretazione e dell'ingresso sono più assimilabili a delle porte in quanto sono elementi che bloccano il flusso narrativo fin tanto che non vengono superati. Ovviamente la stanza dell'enigma è assimilabile a un enigma. L'inganno è imprevisto, probabilmente sarebbe più facile assimilarlo a un corridoio in quanto conduce il flusso narrativo da un punto a un altro. Volendo, in base a come il master decise introdurlo o come gli avventurieri ci si approcciano potrebbe anche risultare essere una trappola. Anche se il metodo delle cinque stanze nella sua formulazione base è incredibilmente semplice, andare a discutere nei dettagli le singole stanze sarebbe palesemente troppo per un singolo video. Quindi nelle prossime settimane andremo in una varia serie di video a vedere stanza per stanza, come caratterizzarla e come gestirla al meglio. Naturalmente con il ritorno delle fondamenta del dungeon ritorna anche la pratica rende perfetti che è la rubrica preferita da quelli che preferiscono la rubrica della pratica rende perfetti. Per questa serie di video lasceremo da parte il fantasy, abbiamo già fatto gli esempi nel fantasy nella prima serie, andremo a occuparci diciamo nella fantascienza, in realtà parleremo di un'ambientazione abbastanza conosciuta che è la tetra oscurità del 41esimo millennio di Warhammer 40.000. Non preoccupatevi se non conoscete bene l'ambientazione, quei minimi riferimenti di background che servono ve li spiegherò volta per volta. In questo video seguiremo la storia di un gruppo di agenti dell'inquisizione che sono stati chiamati a risolvere un mistero all'interno di una città formicaio. Le città formicaio sono enormi complessi residenziali che si estendono praticamente dal terreno fino ad arrivare agli strati alti dell'atmosfera. All'interno ci vivono milioni di persone e normalmente nella parte bassa della struttura, i bassi fondi, sono infestati da criminalità, mutanti e altre aberrazioni del genere. Questo è quello che vi serve sapere. Quindi non perdiamo altro tempo, la nostra storia inizia nella parte più alta della città dove la squadra di agenti dell'inquisizione è stata chiamata dal loro inquisitore che li comanda perché sembra che nel condotto di ventilazione della città sia stata rilevata una sostanza anomala di cui gli effetti non sono ancora del tutto conosciuti ma si è grossomodo capito che la sua fonte è nella parte più bassa della città. Gli avventurieri dovranno scendere nella parte più bassa della città e scoprire qual è la causa di questa sostanza nell'aria. Naturalmente per portare a termine la quest gli avventurieri dovranno superare tutte e cinque le stanze del dungeon ma quello lo vedremo nei prossimi video. Per questo video invece è tutto, se avete domande, dubbi, perplessità o se volete condividere con gli altri storie su come voi realizzate i vostri dungeon o se già conoscevate questo metodo usate l'area di discussione qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale io sono il Master Kai, noi ci rivediamo al prossimo video.